Spazio Centro e Confcommercio hanno chiamato a raccolta oggi a Sciacca i commercianti del centro storico. Vengono avanzate diverse richieste, anzitutto quella di un intervento immediato che possa portare qualche beneficio per quanto riguarda la situazione delle aree di sosta in città, ma si chiede più in generale che la questione commercio venga riproposta al centro del dibattito cittadino e poi c'è una richiesta di riduzione per le attività commerciali della Tari. Abbiamo sentito alcuni tra i commercianti che sono intervenuti oggi. Fabio Venezia, il problema centrale che voi ponete è quello dei parcheggi in centro storico, ma voi sollecitate intanto una soluzione immediata che è finalizzata ad un intervento tampone che è possibile? Certamente, ci sono tante situazioni che si potrebbero risolvere anche domani stesso. Bisogna capire se vogliamo intraprendere un progetto assieme. Con i colleghi non è rivolta a fare una sorta di protesta oppure noi ce l'abbiamo con. Noi in un certo senso stiamo cercando di aprirci all'amministrazione come abbiamo fatto sempre. Andiamo sul concreto. Per esempio, per queste aree di parcheggio da poter realizzare in maniera immediata, qual è la vostra proposta? Quella di portabagni, del via della Vittoria e dell'area delle Terme? Ma guardi, gliene dico una facilissima che è stata sempre messa a centro dell'attenzione. Mi riferisco ad esempio al viale delle Terme. Se noi lo rendiamo un po' più accogliente, per accogliente intendendo le strisce a terra e la segnaletica, dare un po' di lustro a quella segnaletica, perché quella segnaletica, se voi ci fate caso o chi ci ha fatto caso e l'ha ribadito questo, la segnaletica ti inibisce a parcheggiare, perché c'è un segnale che magari capisco che la legge non ammette ignoranza, però quel divieto di sosta rivolto ai camper, la gente lo interpreta come qua non ci posso mettere la macchina e vado via. Quindi quello è secondo me la priorità. E poi quali altre aree secondo te potrebbero essere subito adibite a parcheggio? Dove si potrebbe migliorare la situazione rispetto alle aree di sosta attuali? Mi riferisco ad esempio alla Via Roma, che potrebbe essere risolta domani mattina, anzi addirittura ci sono state delle raccolte firme, comunque una serie di petizioni, ma mai avute un seguito. La Via Roma è a giorno d'oggi messa proprio sotto torchio, viene verbalizzata ogni giorno, i clienti non si possono fermare, non possono neanche andare in banca, neanche al Comune stesso. Quindi siccome siamo in uno stato di emergenza, e quando dico emergenza è emergenza. Chiedete una sosta temporanea in Via Roma che sia consentita? Sì e poi nel frattempo studiare il metodo per cercare di sgombrare il centro storico come si è fatto, però le alternative, dobbiamo cercare di creare le alternative, noi siamo per le alternative. Pippo Conti, lei da molti anni esercita attività nel centro storico di Sciacca, quindi ha avuto centinaia di confronti con le varie amministrazioni comunali, ma in questo momento particolare a sua parere la situazione per quanto riguarda ad esempio le aree di sosta a Sciacca è particolarmente difficile e qual è l'intervento che lei proporrebbe nell'immediato? Ma guarda intanto direi che dopo circa 40 anni di fare impresa, ritrovarmi ancora oggi alle porte della mia forza pensione che non arriverò sicuramente ad avere e sarò lì a lavorare sino alla fine del mio percorso di vita, veramente è drammatico doversi ritrovare ma lo faccio volentieri senza esitare ovviamente, doversi ritrovare a sostenere questo problema che nessuna delle amministrazioni in questi ultimi 30 anni ha messo a fuoco come progetto da dare a questa città. Il risultato di una classe politica veramente, devo dire, inetta diciamolo chiaramente senza stare lì a girare sulle parole perché altrimenti noi qua non ci capiamo più nulla. Veramente una città senza progetto non ha dove andare, aggiungerei una parolaccia, ma lasciamo stare. Non è pensabile che ancora oggi ci ritroviamo a dover affrontare ad uno ad uno gli stessi problemi che abbiamo affrontato 20 anni fa senza che nessuno mai ha pensato di poter risolvere questi annosi problemi. Non è pensabile che si venga a conoscenza da parte di un amministratore che non si ritiene più esigenza importante che il centro storico della città venga munito di un'area di parcheggio servita. Non è pensabile che non si coinvolga la città, i cittadini, i giovani che devono guardare nella direzione di restare in questo caspita di paese. Bene, coinvolgerli in un progetto che guardi in una certa direzione. Allora, vediamo un po' che direzione vogliamo prendere. Io sono pronto lì a tirare i primi sassi se è necessario, anche perché non demorderemo sicuramente rispetto a questa cosa. Mi fa piacere che oggi si stiano svegliando, ma dico che hanno dormito abbastanza. basta.